Ma ciao amici e bentornati nella serie più seguita di YouTube Italia, ovvero Pokémon Verde Foglia. E nulla, ora si comincia a fare una cosa che a me piace fare tantissimo, ovvero farmare. Sì, è questo lo spirito dei Pokémon. Bene, e ora che mi sono divertito a farmare questa gentaglia, porca troia, farò una cosa molto simpatica perché non ho più voglia di fare altri livelli. Ovvero questo, porca troia, non ne potevo più. E già che ci siamo, li insegniamo, li insegniamo. Eccolo qua, direi che siamo a posto. Poi sì, me lo ricordo che ho detto che devo catturare un sesto Pokémon, ma non avevo voglia di allenarne cinque. Figuriamoci se adesso ne vado a catturare un sesto. E ok amici, è arrivato il momento di affrontare la sfida dei Super 4. Paolo Relay. Oh no, un Dugongo. Dai su Crepa. Sì, no, fallo anche la terza volta. Ah, strano. Avanti, The Thrunner. Cioè veramente non avevo nessun Pokémon che potesse tenere testa a un cazzo di slobro. Allora, vediamo un po' chi c'è adesso. Ah, c'è V1. Sìììì. Andiamo avanti. Poi Bruno mi ha sempre fatto ridere perché quando perde lui se la prende pure. Guarda, guarda. Si gira per non guardarci. E ti parlo lo stesso. Si gira di nuovo. E si faccia di qua? Ciao Agatha. Come va? Oh no. Quello è Arbok. Andiamo al prossimo allenatore. Che dovrebbe essere proprio Lancia. Ed eccolo qui. Si promuoviamoci. Oh no, ma quello lì è Gerizos. All'azzacco. All'azzacco. Ahè. No, Di Mario. È caduto il governo. Suka. Arrivo amico. È l'ora della resa dei conti. Cazzo vuoi fare, bot? Scemo. Ahè. Ahè. Suka. Non posso fallire. Oh no, un altro Gerizos. Ma vaffan... No, non ho revitalizzanti Max. No, non ho revitalizzanti Max. Che pò. Avanti, Nadia. No, Nadia Toffa ha perso. Ora, ti levi dalla minchia? Oh no, c'è Raidon. Cosa facciamo adesso? Oh no. L'ho distrutto. Vai via. Ahah. Ah sì che ce l'avevo il revitalizzante Max. Vai, Di Maio. Il governo è tornato. Mi dispiace Salvini, ho vinto io. Quasi dà che andiamo avanti. Non si può premere start. Che palle. E' stata una run divertente. E' bella. Mi sono proprio divertito a farla. E' ah no, aspettate. Aspettate. C'è il settipelago da fare. Stronzi. Ma siccome non ho voglia di catturare altri Pokémon. Oh no. E chi sarà mai questo simpatico ragazzo? Oh no. Oh no, ora il Pokédex nazionale ce l'ho. Andiamo. Ahah. Eccoli. Fatemi capire. Voi avete i Pokémon al 35? Allo? Cioè, capito che non siete i Super 4. Però, Cristo, ho appena battuto la Lega. Ah, ma io mi stavo dimenticando di una cosa importantissima. Devo leggere i commenti più divertenti. Allora. Vediamo un po' che cosa abbiamo oggi. Ciao Peppo, come stai? Come al solito. Una merda. Avrei più paura di un genitore che mi chiama Lisetta che un tapiro gigante pedofilo che vota Lega. Ah. E tu come fai a sapere che Marwa... Ecco, Marwa. Certo, proprio lui. Che Ipno voti Lega, eh? Non è che sei pagato da Soros per dire queste cose, eh? L'ho trovato! Finalmente possiamo andare a catturare nuovi amici. Però questa è una cosa che faremo... Eh... Direi nel prossimo episodio. Però devo leggervi l'ultimo commento. E vi devo dire che è stato molto difficile sceglierli perché porca troia... Avete preso questa serie per... Per Mr's F.O.G.R Plays, ma... Non so come spiegarvelo. Non è quello. Probabilmente Pokémon Masters lo riscaricherò per provarlo. Ma dato che non ho manco seguito le due robe che hanno detto, non ho aspettative né positive né negative. In ogni caso, Avon non compare nei video perché lui è sempre nei nostri cuori. Totò Hawk... Non è che abbiano detto chissà che cosa di Masters, eh? L'hanno fatto uscire tipo 10 secondi di trailer. E... Avon non compare nei video perché lui è sempre nei nostri cuori. Questa è una... È una cosa molto... Molto vera. È molto simpatica. E quindi... L'accetto come tale. Va bene. Totò Hawk... E... E... Idrattatevi che fa bene, ragazzi. E...